Paura a Salerno questa mattina in via Mecio-Gracco, nella zona industriale dove è scoppiato un silos contenente bitume. Alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una richiesta di intervento a causa della fuoriscita di gas e poi per l'esplosione successiva del silos. Immediato l'intervento dei caschi rossi della sede centrale con l'ausilio di un'autoscala che hanno provveduto a raffreddare il silos in questione con estinguente schiumogeno, monitorando le temperature grazie ad una termocamera. Lo scoppio provocato probabilmente dall'innalzamento eccessivo della pressione all'interno del silos fortunatamente non ha creato ulteriori danni ai fabbricati vicini. Grazie